E quest'anno il settore della cooperazione ha registrato dati incoraggianti nonostante la crisi, mentre il comparto agricolo ha sofferto per le condizioni meteorologiche e la stagnazione dei consumi. Si è fatto il punto su entrambi durante le presentazioni del rapporto sull'economia regionale 2014 realizzato da Union Camere. L'economia regionale procede a due velocità. Le imprese che vendono all'estero conquistano dati positivi, mentre quelle che producono beni o servizi destinati prevalentemente al mercato interno soffrono per la stagnazione dei consumi e per il calo delle vendite. Questa differenza è emersa chiaramente nel rapporto sull'economia regionale 2014 realizzato da Union Camere. Due approfondimenti sono stati dedicati alla cooperazione e al settore agricolo. La nostra regione verifichiamo che sta perdendo qualche punto rispetto alle altre territori in Europa, tra i migliori territori comunque rimane. Il problema è il paese che fa fatica e quindi ci trascina un po' con difficoltà. Per esempio tutta la voce tassazione è un problema molto serio per le imprese. Noi come cooperazione stiamo tenendo, stiamo riuscendo a dimostrare che comunque l'occupazione si può anche non diminuire in senso complessivo. Se in qualche settore cala in altri settori siamo riusciti ad aumentare. Tant'è che dal 2008 al 2013 la cooperazione ha aumentato i suoi occupati dell'oltre 11%. E quindi stiamo parlando di dati significativi e importanti in un periodo di drammatica difficoltà e di crisi. Il 2014 è stato un anno difficile per l'agricoltura. Secondo i dati forniti da Union Camere nei primi nove mesi dell'anno quasi 2000 imprese hanno cessato le attività.